Ci sono ancora frazioni isolate nella zona di Ferriere, nelle località di Pomarolo e Castagnola, una quarantina di persone ha difficoltà a lasciare le proprie abitazioni a causa delle strade franate, effetti dell'ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha investito il territorio piacentino, in particolare l'Alta Val Nura e la Val Daveto, Compiene ed Esondazioni. Stamattina il sindaco di Ferriere Carlotta Uppizzi ha effettuato un sopralluogo da Antonio, il 103enne di Pomarolo, frazione ancora isolata dalle franee, e dove si sta lavorando per ripristinare l'accessibilità. A Cattaragna e Casaldonato, sempre nei pressi di Ferriere, sono stati aperti piccoli varchi secondari per uscite di emergenza o per chi deve lasciare in qualche modo le seconde case. Intanto le squadre del soccorso alpino, insieme ai carabinieri forestali, sono entrati in azione proprio a Pomarolo e Castagnola per svolgere attività di censimento degli abitanti, valutazione delle condizioni sanitarie e consegna di generi di prima necessità o medicinali. In Alta Valtrebbia il sindaco di Ottone Federico Beccia fa sapere che la situazione è stabile, non ci sono più frazioni isolate, ma ci sono criticità nell'area ridosso del ruscello ventra, con parti erose e franate. Si attendono i tecnici della regione, dice il primo cittadino, per una valutazione e poi il successivo ripristino. Attenzione al meteo, scatterà a mezzanotte e proseguirà per 24 ore. La nuova allerta della protezione civile sarà di colore arancione e riguarderà la montagna e la collina piacentina, per temporali, vento, frane e piene di corsi d'acqua. In pianura l'allerta è gialla, il terreno è stato fortemente indebolito dall'ondata di maltempo dei giorni scorsi, preoccupano perciò potenziali frane e smottamenti.